L'ultimo ospite, tra l'altro molto atteso, a chiudere la seconda serata di conversazioni dal mare. Siamo alla quinta edizione e il prossimo ospite è Sigfrido Ranucci. Sigfrido Ranucci, dagli anni 90, lavora alla RAI come inviato e autore di programmi di informazione. Da marzo 2017 conduce ormai il noto programma Report, il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo e TV. E da giugno 2020 è stato scelto da Franco Di Mare come suo vice direttore a RAI3. E poi ad accompagnarlo in questa conversazione, Cenzio Di Zanni, giornalista di Repubblica, e a presentare Sigfrido Ranucci, Il patto, la trattativa tra Stato e mafia, nel racconto inedito di un infiltrato. Può partire lo spot? Se parlavano del tuo libro e avevano dato l'ordine di ucciderti. Sono Jeff Bezos. Sono Jeff Bezos, sono il fondatore di Amazon.com. Noi abbiamo tirato fuori questa storia del piano pandemico, no? Invece di riaprire quegli ospedali che abbiamo chiuso in questi anni. Che va a RAI Porta, con il mio posizione, con una colazione. Oltre alle confrontazioni, per la squadra, non so, niente. Perché è un lavoro di squadra, fatto dai feedback, dalla redazione che fa il controllo, cioè dei attaccati incredibili, dai montatori che fino all'ultimo avevano comprensibili i contenuti della squadra di squadra e della regia. E dalla colpia, dai, lo voglio dire. Grazie. E vi lascio in compagnia di Siegfriedo Ranucci e di Cenzio Di Zanni. 20 luglio 1992. Sono passate poco più di 12 ore dall'Eccidio. Due agenti della Criminal Pole, venuti da fuori, sono in via D'Amelio. La prima cosa che cercano di capire è dove si siano appostati gli attentatori con il telecomando che ha fatto esplodere l'autobomba. I due escludono subito i palazzi che si affacciano su quel tratto di strada. Sono sventrati. Se si fossero posizionati lì, i killer si sarebbero esposti a un rischio troppo alto. Lo sguardo si posa poco più in là, oltre un muro che separa la via da un grande giardino. Gli agenti mettono a fuoco un palazzo di 12 piani appena edificato. Percorrono poco più di 50 metri, entrano nello stabile e salgono le scale. Si imbattono nei due costruttori del palazzo, i fratelli Graziano. Si fanno portare nel loro ufficio e abbozzano una sorta di interrogatorio. Avete visto qualcosa? Poi chiedono loro i documenti per un controllo via radio. Vogliono sapere se hanno precedenti. Nell'attesa, uno dei poliziotti sale fino alla terrazza, rendendosi subito conto che da lì la visuale su via D'Amelio è perfetta. Per terra nota un mucchio di cicche. Dalla centrale intanto comunicano che i costruttori sono schedati come mafiosi. Sono due dei sei fratelli Graziano, una progenie di imprenditori edili legati ai Madonia e ai Galatolo. Ce n'è abbastanza per portarli in centrale e proseguire gli accertamenti, ma sopraggiunge all'improvviso una squadra di poliziotti. Colleghi, è tutto a posto, ce ne occupiamo noi adesso, dicono i due agenti della Criminal Poll, che se ne vanno perplessi. Fanno ritorno in centrale e stilano comunque un rapporto dettagliato. L'indomani ricevono un ordine di servizio. Devono rientrare al comando di origine. Il loro lavoro a Palermo è concluso. Dei fratelli costruttori, qualche mese dopo la strage, parlano pentiti del calibro di Gaspare Mutolo e Francesco Marino Mannoia. La testimonianza degli agenti della Criminal Poll è finita oggi, nella nuova inchiesta della procura di Caltanissetta, sulla morte di Borsellino e sulla sua scorta. Per tutti questi anni i due poliziotti hanno creduto che qualcuno avesse vagliato il loro rapporto, che quella pista fosse stata battuta. Invece il rapporto è sparito dalla questura di Palermo. Le indagini hanno però appurato che nel palazzo, poche ore dopo che gli agenti della Criminal Poll si erano allontanati, era arrivato un gruppo di carabinieri. Nella loro relazione risulta tutto a posto, tutto normale. Il palazzo della mafia su Via D'Amedio sparisce, come l'agenda rossa di Paolo Borsellino. Ecco Sicfrino, io volevo cominciare da qui questa storia. Racconti in questo libro con Nicola Biondo, edito da Chi ha le lettere, Il patto, la trattativa fra Stato e mafia, nel racconto inedito di un infiltrato. Racconti attraverso gli occhi, la voce, le parole, l'esperienza di Luigi Ilardo, e quindi una prospettiva assolutamente nuova, inedita. Il patto, il cosiddetto patto Stato-mafia. Peraltro questa storia comincia da qui, dalla Puglia, dal carcere di Lecce, no? Sì. No, intanto buonasera, grazie. Tu hai citato solamente uno di quei tanti episodi rimasti irrisolti e che ruotano intorno alla strage di Via D'Amedio. Tra parentesi, questo episodio nel 2009 lo scrivemmo con il collega Biondo per primi perché conoscevamo direttamente uno dei due agenti che era entrato in quel palazzo che era proprio vicino a Via D'Amedio, perché le prime narrazioni su dove fosse stato premuto il telecomando addirittura rimandavano al castello Utveggio che era il castello che si vedeva sulla cima del monte di fronte, ma era troppo lontano, che poi si è scoperto essere comunque una sede che aveva all'interno anche degli uffici nella disponibilità dei uomini dei servizi segreti. Questo è un episodio, quello del mancato approfondimento della presenza dei fratelli Graziano in quel posto che la dice lunga, perché i fratelli Graziano, come hai detto, giustamente erano legati alla famiglia Madonia, la famiglia Madonia, da non confondere con la famiglia Madonia nel Niseno, quella legata a Santa Paola, quella di Re Suttana, che era legata ai servizi di sicurezza. Ecco, questo per dire che c'è tutto un filone che porta alla presenza degli uomini di servizi di sicurezza sul luogo delle stragi, che è un po' la colonna sonora di sottofondo di tutto quello che è successo nel periodo stragista, che, attenzione, noi in una inchiesta recente di report abbiamo retratato addirittura la strage di Bologna, perché da lì c'è la prima prova di una unione tra servizi segreti, qualcuno li chiama impropriamente deviati, ma non lo sono, sono servizi segreti dello Stato, massoneria e versione di destra, criminalità organizzata. Dalla strage di Bologna, se poi vuoi ne parleremo, che fino alle stragi è continuato questo consorzio, se lo possiamo chiamare, della criminalità, che si ritrova d'accordo improvvisamente quando c'è da correre l'uno in mutuo soccorso dell'altro. Proprio del ruolo dei servizi segreti della massoneria, della destra eversiva, nel luogo delle stragi, parla il personaggio che noi abbiamo in qualche modo raccontato, Luigi Lardo. Luigi Lardo è un boss di Cosa Nostra, è un boss del Nisseno, è un uomo pesante nell'economia della gestione di Cosa Nostra, e nel 1993, per primo, da infiltrato, decise di collaborare e di informare su alcuni passaggi della trattativa che stava avvenendo nelle sue fasi finali, perché nel 1993 si erano chiuse le stragi, e che cosa racconta sostanzialmente Luigi Lardo? Luigi Lardo racconta che sui luoghi delle stragi di Cosa Nostra lui aveva avuto testimonianze dirette ma anche raccolte da altri suoi uomini della presenza costante di uomini dei servizi segreti dello Stato e di uomini delle versioni di destra, gente che sapeva adoperare l'esplosivo, gente che veniva a controllare che venissero effettuati gli attentati e nelle modalità con cui venivano poi effettuati e soprattutto fece la lista di tutta una serie di omicidi eccellenti di Cosa Nostra che sembravano inizialmente essere realizzati con la mano di Cosa Nostra esclusivamente, ma che grazie a Lardo si scoprì poi che ci fu un intervento dei servizi segreti nell'attuazione. Stiamo parlando dell'omicidio Piola Torre che aveva per primo era stato l'uomo che aveva concepito la legge sull'associazione mafiosa o quella anche sul sequestro dei beni insieme a Rognoni oppure l'omicidio in Salaco che era l'ex sindaco di Palermo che parlò per primo della gestione ma la gestione degli appalti di Vito Ciancimino sindaco palermitano un autore del Sacco di Palermo nato a Corleone come Rina e Provenzano. E poi scusami se ti interrompo ma mi sembra il caso di dirlo subito c'è una chicca in questo libro che è sconosciuta ai più proprio su Vito Ciancimino su Don Vito è stato uno dei pochi uomini a potersi permettere di dare un ceffone a niente poco di meno che a Bernardo Provenzano questo perché Vito Ciancimino era di Corleone ed era stato pensate un po' l'insegnante di matematica di Provenzano nelle ripetizioni che dava per cercare di raddrizzarlo da qui anche il nome di Bernardo Provenzano come o ragioniere no? perché era la parte di Cosa Nostra che era più abituata a pensare a ragionare ed è infatti la parte di Cosa Nostra che proprio nell'ambito della trattativa tra Stato e mafia il ROS di allora sicuramente non per me la volontà dei responsabili ma sicuramente con un mandato politico questo lo voglio dire perché altrimenti si può far pensare che il colonnello Mori o gli altri abbiano agito in maniera individuale come se fossero dei traditori dello Stato questo voglio dirlo anche se il libro è molto critico in alcuni passaggi però il colonnello Mori e gli uomini che intorno a Mori hanno agito in quella trattativa con Cosa Nostra avevano un fine che era un fine un po' più alto era quello di far cessare le stragi e come è stato possibile andandosi ad alleare con la parte più pacifista di Cosa Nostra questa è una strategia che da sempre è stata fatta negli anni l'Italia non è stato l'unico paese che l'ha fatta l'hanno fatta agli Stati Uniti l'hanno fatta in altri paesi una strategia ben precisa che ha portato poi i suoi frutti praticamente e nel momento in cui il ROS decide di imprimere una marcia per fermare le stragi e arrestare colui che aveva deciso di fare la guerra allo Stato e cioè Riina quella parte più guerra fondaglia si rivolge a Vito Ciancimino sindaco di Palermo sapendo che lui aveva dei contatti con Bernardo Provenzano questa parte qui noi la raccontiamo nel libro ed è una parte lo voglio dire che non è stata approvata da nessuna inchiesta giudiziaria è una informazione che noi abbiamo avuto durante la confezione di questo libro ovviamente da fonti autorevoli e devo dire che a oggi non è stata mai smentita e che cosa si ipotizza si ipotizza che a un certo punto il ROS attraverso Vito Ciancimino raggiunge Bernardo Provenzano e sia proprio Bernardo Provenzano a fornire gli elementi utili attraverso una mappa delle utenze ad indicare il covo dove si nascondeva Trattorina che era appunto quello di via Bernini e però questo ovviamente era un segreto inconfessabile perché avrebbe provocato un terremoto all'interno di Cosa Nostra soprattutto avrebbe delegittimato se questa notizia fosse emersa subito anche quel ruolo di Bernardo Provenzano capo di Cosa Nostra rendendo inefficace invece quel ruolo che paradossalmente tra virgolette lo Stato gli stava affidando cioè quello di manutentore della pace in un momento in cui invece Cosa Nostra stava facendo la guerra allo Stato e anche l'arresto di Rina diciamo è una rappresentazione per come è stato raccontato falsa di quello che è avvenuto non potendo scoprire il ruolo di Bernardo Provenzano che cosa si fa si prende il pentito di turno in quel caso era Balduccio di Maggio che era in Piemonte lo si porta a Palermo lo si mette in una balena che è questa macchina che viene utilizzata per fare le operazioni di controllo di osservazione senza essere scoperti e si aspetta che esca l'autista di Rina Biondino e che Balduccio di Maggio lo indicasse appunto come colui che era preposto a portare il capo di Cosa Nostra in giro e infatti scattarono gli operazioni d'arresto di fronte alla stazione Agip di poco là vicino al covo di via Bernini però anche questa operazione nasconde una grande anomalia che è un po' alla base del processo della trattativa a stato mafia e cioè la mancata perquisizione del covo viene arrestato Rina ma gli uomini del Ross e solo gli uomini del Ross decidono di non entrare nel covo di Rina perché questo perché questo probabilmente faceva parte del patto con Bernardo Provenzano io ho preferito chiamare il libro il patto non la trattativa perché secondo me proprio il valore semantico della parola fa assumere a tutta questa vicenda un contorno diverso una luce diversa la trattativa è uno scambio pari il patto può essere anche un patto sottinteso e cosa che secondo me è avvenuta sono avvenuti anche più patti forse in questa vicenda quello che probabilmente si è convenuto con Bernardo Provenzano è che il covo non fosse perquisito e che fosse data la possibilità agli uomini di Cosa Nostra probabilmente alla moglie di Rina Bagarella di portare a suo fratello che era Bagarella anche lui un uomo molto vicino a Rina la varia documentazione l'archivio di Totò Rina e molti parlano di un archivio dentro il covo un archivio che avrebbe fatto tremare lo Stato e la percezione di quello che poteva esserci là dentro noi l'abbiamo avuta anni dopo è probabile che ci fosse il cosiddetto papello cioè la richiesta che Rina aveva fatto allo Stato in quel momento sulla liberazione del 41b se legge a favore di Cosa Nostra la lista della spesa che aveva consegnato tramite Giancimino esatto e soprattutto tutti quei pizzini tutti quei documenti che riguardavano i rapporti tra Cosa Nostra la politica e l'imprenditoria perché non bisogna dimenticarsi che un ruolo importante in tutta questa vicenda l'hanno avuto anche gli imprenditori se noi sentiamo le testimonianze di molti collaboratori di giustizia molti dicono che furono gli imprenditori a volere che le stragi non si fermassero ad un certo punto perché questo? per capirlo bisogna andare a focalizzare il contesto storico di quel momento che è un contesto che unisce più parti forse le parti malate dello Stato le parti malate delle istituzioni noi ci troviamo di fronte agli anni 90 91 quando da una parte è caduto il muro di Berlino e quindi la DC non avendo più il suo nemico storico aveva perso potenza nel paese se la DC perde potenza nel paese Cosa Nostra che aveva in quei referenti politici lo schermo giudiziario anche la possibilità di uscire impunita come era avvenuto fino a quel momento nei processi e di condizionare l'attività giudiziaria di controllare anche i voti noi poi dirò alcuni dati che sono abbastanza esemplari che sono contenuti nel libro la data che va impressa è sicuramente quella del maxiprocesso cioè quando Falcone e Borsellino riescono per la prima volta nella storia a portare al processo con la possibilità di arrivare alla condanna dell'ergastolo oltre 400 mafiosi è la prima volta che viene nella storia riescono a fare il processo anche con le sezioni riunite della Cassazione cosa che era fino a quel momento non era stata possibile Cosa Nostra chiede più volte un intervento della politica e lo chiede ad Andreotti attraverso Salvolima quando si arriva alla prima condanna la mafia non perdona il fatto di essere stata diciamo così abbandonata il primo segnale che viene mandato ad Andreotti è l'uccisione di Salvolima Salvolima viene ucciso in maniera plateale nelle strade di Palermo in pieno giorno e questo fu il primo segnale serio che Cosa Nostra manda ad Andreotti perché Salvolima Salvolima era referente della corrente anderottiana in Sicilia da solo portava pensate 450.000 voti a senatori come lo definivano e Andreotti senza i voti della Sicilia non sarebbe stato rieletto più in Parlamento poteva contare solo su 12.000 voti nel Lazio a quel punto che cosa accade accade che consiglia lo nomina senatore a vita dopo l'uccisione di Salvolima io sto mettendo insieme solamente dei fatti storici delle cronache potete anche verificare e a quel punto Cosa Nostra è perduta deve cercare dei nuovi referenti politici e come li trova cerca di agganciare il partito socialista per capire per chi vota Cosa Nostra basta andare a vedere cosa che noi abbiamo fatto nel libro lo raccontiamo i seggi del Lucerdone cioè del carcere di Palermo se tu vai a vedere le espressioni di voto all'interno del Lucerdone capisci che Cosa Nostra aveva indirizzato il proprio consenso verso il partito socialista ma a quel punto c'è una variabile impazzita che è quello di Di Pietro Tangentopoli ci sono circa 5.000 avvisi di garanzia che scuotono il Parlamento e questi avvisi di garanzia fanno crollare anche quel punto di riferimento che Cosa Nostra aveva in qualche modo individuato e ecco uno dei motivi delle strage di continuare le strage a quel punto bisognava addirittura si era pensato a Cosa Nostra come un partito a sé i fratelli Graviani avevano anche fatto il partito Sicilia Libera cioè un partito fatto dai boss di Brancaccio oggi accusati di essere gli autori dell'attentato di Via D'Amelio e ma soprattutto è interessante capire quel consorzio di cui parlavo prima della Lega della della massoneria della versione di destra della criminalità organizzata e dei servizi di sicurezza a un certo punto si uniscono dove si uniscono nel tentativo di formare dei nuovi partiti e soprattutto nel fenomeno delle leghe cioè addirittura la Lega Meridionale che negli anni 90 avevano tentato di fondare uomini come Licio Gelli Greco detto il Papa e proprio Vito Ciancimino quindi questi tentativi e dentro c'erano anche partiti mini partiti sempre legati alla massoneria o addirittura che ruotavano intorno all'ufficio allo studio di un commercialista che si chiamava Menicacci che era un signore legato alle versioni di destra l'avvocato e il commercialista di molti degli uomini dei servizi segreti anche di quelli che si scoprì dopo essere deviati ecco come si vede ci sono degli stessi degli apparati che si muovono in soccorso l'uno dell'altro in periodi particolari della nostra storia tornerei un attimo su una delle domande che credo stia frullando nella testa di molti dei presenti a quella mancata perquisizione del covo di linea che è uno degli elementi centrali come hai ricordato tu della cosiddetta trattativa poi vedremo anche il processo lo dicevamo prima di salire sul palco e alle battute finali quello d'appello il processo d'appello ecco tu scrivi tu e Nicola Biondo che addirittura per cancellare le eventuali tracce di impronte digitali hanno proprio verniciato ripitturato sì si entrò nel covo settimane dopo quando il covo era stato riverniciato portatele addirittura le rose nel 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 giardino gli uomini delle rose che furono stati anche processati per questo ma fu furono archiviate le loro posizioni anzi fu chiesta l'archiviazione perché la motivazione fu che ecco qui volevo arrivare perché come hanno giustificato volevo che tu perché questo è interessante la mancata perquisizione del covo secondo i magistrati nella mancata perquisizione non c'era la consapevolezza di aiutare cosa nostra è una lettura una motivazione un po' particolare per altri tipi di reato poi era scattata la prescrizione però la mancata ecco io mi fermerei su questa parola mancata se noi dovessimo scandire le vicende delle stragi dal 90 91 92 a oggi la parola mancata ricorre sempre noi abbiamo una mancata verità sulla strage di via d'amelio una mancata verità sulla strage dei capaci una mancata verità sulla mancata perquisizione del covo una mancata verità sulla perché non fu arrestato Bernardo Provenzano quando proprio Luigi Olà Ilardo che noi raccontiamo nel 2004 portò addirittura il ROS portò con un segnale addirittura GPS portò gli investigatori nel luogo dove si stava a mezzo uso dove si nascondeva Bernardo Provenzano ecco fu giustificata quella mancata quel mancato arresto all'epoca dicendo che c'erano troppi pastori e che avrebbero potuto impedire l'arresto di Bernardo Provenzano insomma io non credo che il ROS si possa far spaventare da alcuni pastori credo molto più facilmente che ci sia stata una volontà di tutelare anche legittima nell'idea di chi deve difendere l'ordine pubblico di tutelare quella parte più pacifista di Cosa Nostra invece poi avevano giustificato come e questo era gli atti come esigenze investigative la mancata perquisizione del Corvo di Rina no? esigenze investigative da una parte giustificate in maniera anche lì un po' particolare si disse che volevano vedere chi altri frequentava il Corvo allora l'esperienza ci dice che una volta che viene arrestato il capo di Cosa Nostra in quella modalità vicino al Corvo nessuno si avvicina al Corvo perché può pensare che venga preso quindi è illusorio che questo possa essere stata una giustificazione c'è un altro mistero che ci sono state delle telecamere che hanno ripreso per giorni per lunghi periodi le frequentazioni all'interno del Corvo di Rina di personaggi molto ma molto importanti si parla di personaggi politici imprenditori di personaggi di magistrati ecco quei nastri sono misteriosamente spariti dalle 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 indagini e la mancata verità su chi ha fatto sparire l'agenda rossa di Borsellino fu portata via con i cadaveri ancora caldi ancora brucianti da umani dello Stato che non si curarono affatto di portare soccorso ma l'unica preoccupazione era quella di portare via l'agenda rossa di Borsellino sulla quale probabilmente c'erano scritti i nomi dei mandanti delle stragi gli autori delle stragi molte cose probabilmente erano anche nell'archivio di Rina nel covo di via Bernini noi abbiamo potuto percepire che solo da un pizzino che Rina aveva in tasca nel momento dell'arresto sono scattati 30 arresti e da una fotografia che era stata ritrovata per caso sfuggita probabilmente a chi ha ripulito il covo dietro un armadio c'erano dei nomi di telefono che hanno portato a 300 indagini diverse quello sarebbe stato un piccolo esempio di quello che poteva essere il potenziale di un'indagine effettuata in quel momento in quel covo probabilmente invece quell'archivio doveva finire nelle mani ma questo per un patto magari sottinteso del nuovo capo di Cosa Nostra che probabilmente è Matteo Messina Adenaro io a proposito di patto tornerei alla figura di Luigi Ilardo che è probabilmente il primo insider nella della storia d'Italia e la storia di Luigi Ilardo è un po' la storia di chi ha deciso di lasciare per sempre il retaggio dell'uomo d'onore di chi ha inseguito il miraggio della liberazione ed è anche la storia di un patto nel patto il patto che Luigi Lardo alias Oriente fa con un altro ufficiale dei carabinieri si è il colonnello Riccio sostanzialmente che cosa racconta Lardo come ho detto prima racconta la presenza per primo intanto di un personaggio che è morto portandosi dietro la verità un uomo di un poliziotto aiello definito faccia da mostro è un poliziotto che aveva il volto deturpato da una fucilata e che è stato definito l'uomo presente in tutti i luoghi delle stragi più importanti di cosa nostra e Lardo racconta del ruolo dei servizi segreti di sicurezza della massoneria e della destra avversiva nell'omicidio come ho detto prima di Piolatore di Insalaco ma anche quello del fratello del presidente di Bernardo Mattarella che aveva abbracciato era della coerente avversa a quella di Andreotti in Sicilia della DC quindi quella avversa da Salvo Lima aveva cominciato un periodo di riforme e venne ucciso e ancora oggi si cercano i responsabili ma soprattutto Ilardo Bersanti Mattarella l'omicidio di Bersanti Bersanti Mattarella Luigi Lardo è l'uomo che dice esattamente che cosa sta avvenendo nella fase della trattativa tra 1993 e 1994 cioè l'idea di consegnare i voti a Cosa Nostra ad un partito nuovo che è Forza Italia e fa il nome del referente di quel partito in quel momento referente di Cosa Nostra all'interno di Forza Italia che è Marcello Dell'Utre il senatore Marcello Dell'Utre quindi capite esattamente che cosa vuol dire in quel momento avere contezza in quel momento andare in quegli anni e capire cosa stava accadendo se quella testimonianza che poi ad un certo punto nel se non vado errato nel 96 Luigi Lardo decide di ufficializzare e di raccontare tutto ai magistrati viene accompagnato nella caserma del Ros Roma via Salaria e insieme al colonnello Riccio incontra in una stanza propedeutica quella dove si trovano tre magistrati che sono tre magistrati che sono principato erano all'epoca Tinebra che è morto e Giancarlo Caselli lui incontra Mori e gli dice voi sapete esattamente che le stragi non sono solo opera di Cosa Nostra ma sono anche opera vostra dello Stato e dei servizi e via dicendo Mori non risponde si volta e va via dalla stanza Luigi Lardo entra nella stanza dove ci sono tre magistrati ci dicono alcuni testimoni che la sedia era posta verso il magistrato Tinebra che all'epoca era il titolare delle indagini sulle stragi del procuratore di Caltanissetta ma Ilardo non si fidava di Tinebra che è l'uomo che ha archiviato parecchie posizioni scomode negli anni compresa quella di Dell'Uteri e sposta la sedia verso Caselli scegliendo lui come interlocutore Giancarlo Caselli e comincia a raccontare quello che noi abbiamo scritto nel libro quello che è in parte sulle informative che ha scritto il colonnello Riccio che ha gestito l'infiltrazione di Luigi Lardo ad un certo punto è proprio Tinebra il magistrato Tinebra che si alza in piedi lo ferma gli dice fermati comincieremo a verbalizzare dalla prossima settimana Luigi Lardo lascia Roma torna a Catania verrà ucciso nelle ore successive da un comando di killer che erano al servizio di un boss Zuccaro che è passato alla storia come l'unico boss di Cosa Nostra condannato all'ergazzo l'ho passato a casa un uomo legato ai servizi e con Ilardo scompare un patrimonio di un potenziale enorme no? Scompare un testimone intanto diciamo abbastanza autorevole perché è un personaggio di spicco di Cosa Nostra uno che ha conosciuto personalmente alcune vicende che aveva la possibilità di conoscerle scompare la possibilità di conoscere in quel momento lì la verità su alcuni passaggi delle stragi e della storia d'Italia siamo a cavallo dal 93 al 96 dobbiamo ricordarci che cosa accade il colonnello Mori che ha gestito questa trattativa il mancato arresto di Provenzano verrà nominato capo dei servizi segreti italiani del servizio segreto civile queste cose messe insieme secondo me hanno un significato importante per capire come è stata gestita quella fase della trattativa a chi è servita quella fase della trattativa chi ha tratto beneficio da quella fase della trattativa una trattativa che secondo me è ancora in atto perché trattativa o patto perché quello che dice Graviano che oggi è stato accusato dopo un depistaggio diciamo anche abbastanza importante fatto da uomini dello Stato fatto dalla polizia dalla squadra mobile di Palermo che era guidata allora non solo dai legami con Contrada che era capo del SIS del numero 2 del SIS da Palermo ma che è stata guidata dalla Barbera la Barbera capo della squadra mobile di Palermo si è scoperto dopo la sua morte che era un agente dei servizi di sicurezza a nome in codice Rutilius e che secondo il pentito Francesco Di Carlo è stato l'autore anche dell'attentato del falso attentato a Falcone quello della Daura quello che doveva spaventare Falcone e spingerlo a lasciare Palermo in un certo in un certo momento e la Barbera alias Rutilius era anche l'uomo che si sospetta essere stato uno degli autori della sparizione dell'agenda rossa di Borsellino perché visto nelle vicinanze dell'automobile del giudice esplosa e secondo alcuni testimoni oggi alcuni collaboratori di giustizia era un frequentatore di Cosa Nostra fino nel momento del concepimento delle stragi con il cambio al vertice della c'è il cambio al vertice della DIA esce di scena Gianni De Gennaro lascia Riccio il colonnello Riccio che è stato l'uomo che ha raccolto quello con cui Lardo aveva instaurato un rapporto di fiducia e che gestiva fra virgolette l'infiltrazione di Lardo quando De Gennaro lascia la DIA Riccio passa a Ross e nella sede di Roma non c'è una scrivania per scrivere per le sue relazioni questo mi ha colpito molto a proposito del verbalizziamo la prossima volta è un particolare che tu Nicola Biondo mettete in evidenza e peraltro non c'è una scrivania ma c'è Salvatore Cancemi che dà un bacio a uno degli ufficiali lì presenti è un indizio Salvatore Cancemi intanto bisogna dire chi è stato uno dei principali accusatori di Berlusconi e Dell'Utre un uomo che era una sorta di cassiere di Cosa Nostra e l'uomo che aveva appunto iniziato alla mafia Mangano Vittorio Mangano cioè il famoso stagliere di Arcore e quindi era un uomo che sapeva benissimo come funzionavano e giravano le cose intorno a Cosa Nostra faceva parte della commissione di Cosa Nostra quella che si riuniva in via Mangifaraci a Palermo che è una via fatta a forma di ferro di cavallo dove si riuniva quello che veniva considerato il parlamento di Cosa Nostra lui è uno dei uomini che ha scelto e deciso la linea stragista di Cosa Nostra in contatto diretto con Avigina e quello che tu dici che noi abbiamo raccontato la mancanza della scrivania adesso io non arrivo a pensare che sia voluta la mancanza però è una metafora di come funziona tante volte lo Stato all'interno per le sue diciamo ruggini burocratiche noi in quel momento avevamo di fronte noi siamo stati parecchi giorni a contatto con Riccio lui vicino Savona questo colonnello che ha vissuto l'infiltrazione per anni di Lardo cioè è un'infiltrazione pesante per quello che ci ha raccontato anche molto rischiosa rischiosa per Lardo rischiosa anche per Riccio non dimentichiamoci che venivamo dalle stragi nel momento più forse più croento di Cosa Nostra dove c'erano ancora molti uomini fedeli a Rina pronti ad uccidere e l'uccisione di Lardo che viene davanti davanti casa con l'ascia dei figli colpì moltissimo Riccio anche dal punto di vista emotivo e il suo rammarico grande fu soprattutto quello di sentirsi inadeguato come istituzione come stato nel proteggere un mafioso Sim ma che aveva avuto il coraggio di infiltrarsi di cambiare di lasciare quel mondo che era un mondo importante pesante per lui il suo passato per poter in qualche modo contribuire a scrivere delle nuove pagine di storia ecco se noi parliamo di Lardo lo facciamo dopo tantissimi anni io non mi scorderò mai perché sai uno dei motivi per cui ho scritto questo libro è che io mi recai nel 2007 a Palermo passai conoscevo Nino Di Matteo il magistrato per chieste pregresse e mi colpì la sua solitudine mi raccontò di questa storia quando ancora non era mai uscita che c'era appunto la fonte oriente così si chiamava all'epoca non si diceva neanche il nome Lardo mi disse c'è una storia incredibile che mette in ginocchio lo Stato apre delle crepe forse insanabile all'interno dello Stato e sono solo perché lo Stato mi ha lasciato solo e in quel momento io ho deciso di scrivere questo libro andando a studiare tutti i documenti che riguardavano le stragi tutte le documentazioni che riguardavano gli attentati collaterali mettendo insieme anche fatti di storia fatti aperti insieme al collega Nicola Biondo abbiamo piegato quasi due anni e quando decidemmo di scrivere questo libro l'editore Chiarelettere che non sapeva ancora nulla di questo libro si avvicinò un giorno nel proprio alla fine del 2007 mi disse ma perché non scrivi un libro tu che sei al reporte io ho detto guarda il libro ce l'ho e si chiama Il patto il titolo il titolo è rimasto quello a distanza di quasi dieci anni ancora è letto perché è di una attualità straordinaria assolutamente straordinaria tant'è che lo dicevamo prima oggi c'è stata l'udienza oggi si è conclusa la parte difensiva del del processo sulla trattativa dell'avvocato miglio che ha chiuso la sua ringa difensiva e la sentenza di appello ci sarà entro luglio quindi a distanza di 11 anni vedremo se quello che c'è scritto nel libro in qualche modo ha un suo fondamento oppure no ecco faccio l'avvocato del diavolo poi mi piacerebbe coinvolgere poi c'è una verità giudiziaria e una verità storica questo è valso anche per il processo Andreotti la verità giudiziaria che Andreotti è innocente o prescritto ma che abbia avuto rapporti con Cosa Nostra fino a metà degli anni 80 è un fatto non smentibile noi lo raccontiamo anche questa parte e c'è un particolare che vorrei tu approfondissi con il pubblico qual è il confine peraltro in tempi di pandemia tutti i giorni abbiamo a che fare con questo ma qual è il confine fra il complottismo e la verità è un ma io a volte mi è venuto il sospetto che i complottisti sono coloro che vogliono coprire la verità perché a me è scoperto mi è passato è capitato spesso di verificare che se uno va a leggere la verità o meno la verità dei fatti o i fatti avvenuti spesso sono più sorprendenti della fantasia o quelli anche di un complotto che viene architettato con fantasia cioè qui se uno legge quel libro guardate la stessa impressione me l'ha fatta alla fine a me quando me lo sono riletto tutto insieme mettere insieme i pezzi di un piccolo mosaico che uno dei motivi perché spesso la verità non viene raccontata o sfugge cioè la cosiddetta censura additiva quando tu hai troppe informazioni ma non hai chi le mette insieme al posto giusto tu la verità non la capisci non la vedi non la vedi se tu invece pazientemente metti insieme tutti i pezzi del mosaico alla fine ti appare un mostro ti appare la figura del mostro ecco questo è quello che è successo mettendo insieme i pezzi di questo di questo di questo libro insieme i pezzi delle informazioni che abbiamo che abbiamo raccolto e quindi io penso che chi parla di complottismo o chi crea l'idea del complotto o chi addirittura esaggia faccio l'esempio del bacio di Badduccio di Maggio il bacio famoso bacio ad Andreotti cioè lui aveva visto il bacio di Riina ad Andreotti allora per vedere questo bacio di Riina ad Andreotti secondo la ricostruzione di Badduccio di Maggio avrebbe dovuto fare delle operazioni incredibili rampicarsi su un balcone insomma è una storia incredibile serviva a che cosa secondo noi a rendere incredibile l'idea che Andreotti fosse vicino a Riina mentre invece molto più semplicemente sarebbe bastato ascoltare le testimonianze non di Badduccio di Maggio ma dell'autista di Andreotti all'epoca per capire che Andreotti è stato effettivamente in contatto con capi di Cosa Nostra addirittura i luoghi coperti della Sicilia però questa informazione siccome è meno spettacolare non passa si preferisce attaccarsi all'idea del bacio ma quell'idea del bacio poi è una polpetta avvelenata che ti fa buttare tutto il piatto perché se a te ti affrono un piatto con una polpetta avvelenata in mezzo a dieci butti tutto i dieci questo è il concetto per questo io preferisco è un'immagine azzeccatissima efficace io preferisco rimanere ancorato ai fatti perché poi il giudizio se lo fa il pubblico noi spesso sottovalutiamo la capacità della gente di capire di percepire la realtà o spesso ci nascondiamo dietro questo pretesto per non informare e questa è una domanda che io mi faccio spesso quando trattiamo degli argomenti di report che sono argomenti complicatissimi ci vuole un lavoro di edizione per renderli semplici e potabili e potabili esatto io spesso ripeto una battuta che noi gli argomenti che trattiamo a report hanno il sex appeal di un manuale di una caldaia non li vedrebbe nessuno e noi cerchiamo di renderli invece fruibili però nella convinzione che la gente ha bisogno di profondità ha bisogno di conoscere ha bisogno di qualcuno che sia presente di fronte a una notizia ci metta la faccia ci metta il corpo e giuri che quella notizia sia vera e verificabile prima di salire sul palco Sigfridu è stato fermato è stata una scena molto bella per me lo dico da cittadini è stato fermato da diversi cittadini per una foto mi ha colpito una donna una signora sulla quarantina gli ha detto sempre la verità sempre la verità ed è quella sete di verità che questo libro in parte con tutto il lavoro poi di report a quello mi riferisco cerca di soddisfare ci sono domande dal pubblico avete un'occasione imperdibile prego buonasera mi intristisce pensare dover ammettere che report è l'anello mancante nelle inchieste istituzionali in questo lei è il signore degli anelli e quindi rappresenta un mito il mancante è un'altra volta un nuovo un aggettivo che ricorre questo anello mancante beh diciamo che intanto io devo dire la verità che determinate inchieste noi riusciamo a farle solo perché siamo nel servizio pubblico e a volte è vitoperato il servizio pubblico a volte la RAI è vitoperata però io non vi posso garantire che per esempio io sono stato libero di dire di un ministro in carica che in uno studio che questo ministro fosse e stavo parlando di un ministro dell'interno che fosse un'ipocrita e che fosse una persona che giocava sulla pelle degli altri mi è costato stare 40 minuti al telefono con lui il giorno dopo con l'amministratore delegato della RAI ma l'ho potuto dire liberamente ho potuto dare del bugiardo ad Agnelli non so in quanti in diretta in una televisione di stato abbiano potuto in passato e poter poi continuare anche qualche anno perché sto ancora qui dopo aver detto del bugiardo a un signore Agnelli che è uno dei più grandi e importanti industriali nel nostro paese uno che ha dettato le politiche nel nostro paese il più importante sponsor della RAI con la presenza delle macchine ma anche per la questione dei diritti televisivi del calcio noi l'abbiamo potuto fare abbiamo potuto parlare fare un'inchiesta sulla coca cola il giorno dopo ci ha tolto 6 milioni di euro di pubblicità con un privato io immagino Cairo per esempio visto quanto è attaccato al denaro da imprenditore ci avrebbe cacciato via a calci se avessimo danneggiato un inserzionista abbiamo potuto fare un'inchiesta sul caffè parlando in libertà e il giorno dopo sono stati tolti 4 milioni di euro di pubblicità da una casa che produce del caffè napoletano abbiamo parlato della Lidl e ci ha tolto la pubblicità sotto le feste insomma abbiamo potuto parlare di un ex presidente del consiglio che si incontrava in un autogrill per scambiare dei babbi io posso dire che l'abbiamo fatto abbiamo parlato dell'ex ministro degli interni l'abbiamo fatto sempre con grande libertà non nascondo che è pesante perché ci sono attacchi continui adesso vi devo confessare che in più di altri anni in quest'ultimo anno Reporta è stata assediata in questo momento lo è da richieste di risarcimento danni di querele io personalmente ne ho 175 tra penali richieste di risarcimento danni e ci sono richieste di spiegazioni di procedimenti aperti dal garante della privacy perché secondo chi ci contesta noi come trasmissione giornalistica non dovremmo accedere alla documentazione ai leaks alle mail che sono all'interno dei consorsi di giornalismo investigativo quelli internazionali che all'estero negli Stati Uniti anche se hanno messo in mezzo reali di Inghilterra presidenti della Repubblica degli Stati Uniti premier canadesi amici di Putin facebook le grandi multinazionali del web sono stati premiati col premio Pulitzer noi qui di Report siamo accusati di furto di mail questo è il capovolgimento della libertà di stampa noi veniamo da un periodo in cui è stata uccisa dalla pancia dell'Europa una giornalista è stato colpito a morte un giornalista olandese ma io non ho sentito giornali telegiornali italiani dare spazio a questa vicenda la BBC c'è stata in apertura per una settimana io credo che in modo silente il tema della libertà di stampa non sia un tema nell'agenda di questa politica di questo Parlamento e questo deve preoccupare non tanto noi di Report quanto voi tutti i cittadini assolutamente su Daphne Repubblica ha scritto moltissimo io mi hai ricordato c'è una cosa che veramente ti fa venire il prurito e che tutti veramente tutti voi dovreste pretendere non la questione delle querele temerarie è una roba che già c'è lì nascosta se ne parla sempre e poi finisce per essere sono due anni che per esempio c'è un disegno di legge di Primo Di Nicola che è un membro della commissione di vigilanza parlamentare che ha istituito proprio un disegno meccanismo di difesa del giornalismo sulla lite temeraria se io so che ti querelo solo per spaventarti tu paghi pegno perché in Inghilterra se uno querela richiede un risarcimento danni a un giornalista e gli chiede come è successo a me anche 105 milioni di euro di richieste di risarcimento danni tu devi mettere un terzo sul tavolo perché scomodi la giustizia di sua maestà e se perdi quello gli perdi quel terzo ecco conoscendo la generosità di alcuni imprenditori italiani io penso che da noi non ci sarebbe una querela se fosse nato questo tipo di legge ma la cosa più insidiosa guarda voglio dirti che è il meccanismo l'uso delle autoriti che hanno una matrice politica perché vengono nominati dalla politica e che agiscono quasi allo scocchiare di vita dei politici allora i garanti dell'agicom o il garante della privacy se la richiesta la fa un politico può star certo che sono molto più sensibili e pur di accontentarlo vanno in fondo io trovo paradossale questa vicenda sulle mail che ci sta coinvolgendo in questo momento la sentenza del TAR non so se l'avete sentita è stato un dibattito di alcuni giornali ultimamente una sentenza del TAR noi abbiamo trattato a novembre scorso la vicenda parlando della tangentopoli lombarda la vicenda di un legale che è in quota lega Andrea Mascetti perché all'interno di un verbale veniva indicato come il playmaker occulto della politica della lega in Lombardia lottizzatore di incarichi da parte di amministrazioni locali uomo che determinava nomine e via dicendo avevamo raccolto tutta una serie di documentazioni e tra parentesi avevamo raccolto anche tutta una serie di consulenze che lui aveva con gli enti locali e avevamo dato conto di tutto questo e avevamo anche chiesto a Mascetti se fosse vero come ci risultava da documentazione nel nostro possesso che lui avesse un ruolo occulto all'interno della lega lui ce l'aveva smentito peccato che noi avevamo delle e-mail che erano all'interno del database del consorzio OCCRP di cui Reporta è un consorzio per chi non lo conoscesse di giornalismo internazionale che si batte da anni contro la corruzione e che ci si può iscrivere chi è giornalista insomma in qualche modo e nella sua pancia ha delle della documentazione delle e-mail che anche se riguardano politici o grandi società sono delle e-mail che indicano o comunque fenomeni di corruzione o fenomeni di condizionamento della politica e comunque della vita dei cittadini noi essendo parte di questo consorzio abbiamo avuto accesso a queste e-mail e in alcune di queste e-mail c'era praticamente un ruolo occulto di questo Andrea Mascetti che era stato il supervisore del piano culturale della lega nelle ultime elezioni quelle del 2018 e poi era stato anche l'ispiratore di alcuni contatti che c'erano stati tra la Fontana il governatore della Lombardia e ad alcuni imprenditori ma anche il trade union di alcuni elementi della destra eversiva e Salvini proprio li aveva fatti incontrare c'era scritto questa sua agenda questa sua documentazione che noi avevamo avuto bene questo signore ha fatto ricorso al Tar all'Agicom e al garante della privacy ora noi ci stiamo difendendo la prima sentenza è stata quella del Tar che in base a questo sillogismo cioè i giornalisti Rai lavorando per un servizio pubblico sono equiparabili a dei funzionari amministrativi cioè praticamente con tutto il rispetto a dei funzionari del catastro per questo sono obbligati a mostrare tutti i loro dialoghi anche in fase di preparazione dell'inchiesta avvenuti con gli enti locali cioè con gli enti amministrativi ora al di là che questa è una sentenza molto discutibile e che va contro la libertà di stampa va a violare anche quelli che sono i principi della legge istitutiva dell'ordine dei giornalisti del segreto professionale e di quella legge che tutela le fonti i dialoghi che noi abbiamo avuto con gli enti locali non sono dei dialoghi astratti non sono un certificato di residenza non sono cioè sono delle richieste che noi facciamo a dei funzionari che nel nome e cognome ci rispondono spesso non sto difendendo il sacro grado io ho detto che quella documentazione non la darò neanche morto piuttosto vado in galera ma non la vedranno non la vedranno sicuramente da me perché è una difesa non solo di reporter ma è una difesa di tutta una classe giornalistica è una difesa di una libertà di stampa che si è conquistata negli anni che hanno conquistato anche chi ha conquistato chi ha scritto la Costituzione che è morto per questa Costituzione ora questo è un atto intimidatorio che genera intanto una perversione cioè paragonando i giornalisti del servizio pubblico a dei funzionari pubblici intanto crea una disparità tra chi fa attività giornalistica cioè i giornalisti di Mediaset questa cosa non l'avrebbe potuta chiedere a vantaggio dico di chi fa giornalismo per Mediaset uno due questa è una sentenza secondo me dei profili di incostituzionalità proprio per questo motivo terzo se dovesse passare in giudicato al Consiglio di Stato chi più scriverebbe al report noi riceviamo 78 mila segnalazioni nei momenti di pausa per segnalare delle degli episodi di corruzione del malaffare della pubblica amministrazione perché domani potrebbe esserci qualcuno che dice mostrate quelle mail e allora ecco che noi facciamo una battaglia di principio e fortuna l'ufficio legale della RAI ci è vicino oltretutto secondo me commettendo anche un errore di lettura madornale che denota un'impreparazione dei magistrati amministrativi su questo non puoi equiparare una società di diritto privato come la RAI che gestisce un servizio pubblico ma che si rivolge a dei professionisti che attuano un servizio cioè quello della informazione che è tutelato con altre regole non puoi mettere tutto quanto insieme nello stesso calderone ora io credo che questa sia una sentenza che abbia una matrice e una volontà politica credo che ci sia una brutta avia in questo momento nel paese che ci sia una grande disattenzione forse anche magari a causa del covid non lo so magari a causa di chi deve decidere ha la testa su altre cose però dico è un'allarme che voglio lanciare perché è una questione la libertà di stampa che riguarda soprattutto tutti i cittadini riguarda tutti voi e questo è fondamentale io ringrazio Sigfrido Ranucci questo è il suo libro e la forza di questo libro oltre alla documentazione evidentemente le fonti che si è riuscito ad arrivare fino alla fine si ti devo dire te l'ho detto prima ho detto caspita è un libro sul patto stato mafia sarà una roba burocratica l'ha scritto Ranucci ah vabbè vediamo l'ho letto e alla quinta pagina ti prende per mano ti accompagna in una vicenda che è complicata perché ci sono decine e decine di fonti che si intersecano ma lo fa col piglio del narratore accompagna il lettore alla ricerca di quel filo che unisce le varie tessere del mosaico è quello che vi auguro di poter fare è quello che auguro a Sigfrido e a tutti i giornalisti di poter fare molto importante grazie per la tua presenza qui e buon lavoro e buonasera da tutti grazie Cenzio per la tua conduzione grazie questo è l'applauso di Molfetta per Sigfrido la Lucci siamo in chiusura vi ricordo gli appuntamenti di domani inizieremo con Massimo Franco poi seguirà Federica Angeli e chiuderemo questa quinta edizione di conversazioni dal mare con Nicola Gratteri un grazie a tutti voi per essere stati qui con noi ai nostri partner istituzionali e ai partner commerciali a tutto lo staff di Artemia grazie ancora buonanotte a domani sera a domani 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 a domani